Tacos! Entra subito in bagno a fare delle pulizie, mi raccomando! Perché? Perché è tutto sporco! Guarda, vieni con me! Che cazzo c'è di? Ti ho assunto! Me l'ha detto Sonic! Lavoro per guadagnare i soldi! Vabbè! Ma non devo andare a bus! Vediamo la cosa che fa per... Allora? Eh? Che sei compenato? Non sono compenato niente! Quelli chi è? Chi è quelli che sei dati, ma? Non sono compenato niente, è cascata da sole! Comincia il tuo primo lavoro, subito! Che schifo, fa via un spray! No! Mi fa male l'ucchio! Mi fa male l'ucchio! Psst! Ehi! Mi fa male l'ucchio! Come va il tuo primo lavoro? Male! Mi fa male l'ucchio! Ehi! Che disastro! Ma sei stato tu a fare questo? No! Ha stato i clienti! I clienti? Ma guarda che zozzeria! Eh! Ehi! Mi dici come fai a pulire tutto questo schifo! La puzza di me! D'acors! Pulisci! Ma vai subito! Va bene! Ti darò una mano! Che schifo! D'acors! Ma guarda che zozzeria! Dai! No! Presta dai! No! Ok! Muoviti su per un bagno! Bene se perché sia tutto pulito! Eh? Questo chi è? Ci sono pisciati! Ci sei pisciato tu? E poi devi dici i primi che ci sono pisciati! Non i clienti! È tutto svolgitissimo! Non ti senti di aver dimenticato qualcosa? Che cosa? Che si tira l'acqua! Una oda che si è venita a pisciare! Ah! Fammi dare un'occhiata! Fammi controllare la cosa! Se prendi tutto la carta e i geni che beppure sa merda! Eh! Vediamo cos'altro che hai combinato! Ecco è! Come si fanno a suotare tutti quei? E dove quei fanno a pulire il culo? Vediamo! Ecco è a posto! Ci si pisciate pure! No quelli ne sono fatti! E che è stato? Un fantasma! Sono stati? Tu? Tu chi stai a fare qua? Niente! Ti ho aiutato a andare a corsa! Ah! Allora non è stato in esso pure i lupagni! Si fa tutto tutto il lavoro eh! Un attimo secondo! Non fa la pipì! Che schifo qua! Hai di scegli pure là dentro! Io vede vado da questo posto di merda! Far scappare fuori gli clienti! Lo bagni tutto! Che cazzo ha fatto pure il lucezzo di merda a calendare! Può insegnarlo volere! Mister Krab! Che cazzo fate assom? Mister Krab! Potete chiedere a me di pulire! No perché io non voglio farti sfaticare tutti i lavori che fai ragazzo mio! Ma che la faccio? Un attimo secondo! NACOS! Siiii? Vieni qui! Eeeh! Sei pronto? Che cosa? A fare una bella discussione? Sei pronto? Si! Vieni! 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 Grazie.